Ragazzi, altro video bomba, un tutorial passo passo direttamente dal mio corso Marrakesh Amazon Edition Vi faccio vedere come pubblicare un libro scritto con l'intelligenza artificiale Perché me l'avete chiesto in tanti, come si mette quando ti chiede se è stato scritto con l'intelligenza artificiale Ragazzi, è estratto dal mio corso Amazon.Marrakesh Amazon Edition Dentro il corso da Zero Royalties, il corso che ho fatto io Ovviamente è un video bomba iscrivervi perché è proprio un tutorial, vi faccio vedere come impaginare, come fare la copertina E come pubblicare il libro, allucinante Il mio consiglio però, volete fare sul serio, volete fare soldi con questo metodo di guadagno, con questo business Vi ho preparato un'offerta incredibile, andate su kdp.michelemaraglino.com Avete Marrakesh Amazon Edition Ci sono gli ultimi due posti per questo mese, erano sei posti, stiamo scrivendo, preparando i libri Pazzesco, ci sono gli ultimi due posti, poi saremo a tappo, quindi beccatevi, prendetevi Perché è l'occasione ghiotta, vi forniamo tutta la formazione necessaria ad avere, diciamo, successo in questo business Con libri che sono scritti in poco tempo, ma solo di qualità, con tutti i tool Le strategie di Ettore Passafiume, che è il ragazzo che ha fatto il corso, diciamo, i corsi più importanti Io vi ho fatto semplicemente un tutorial e ve ne sto condividendo una parte qui su YouTube, quindi iscrivete al canale Lui è un self-publisher dal 2019, è arrivato a fare 7-10.000 euro al mese in alta stagione Tutto quello che ho imparato dal 2019 lo ha messo in questo corso di altissima qualità Anche vi insegna come fare le campagne pubblicitarie, come scalare, come trovare le keywords, come analizzare la concorrenza È un corso fuori di testa, in più avete 10 libri che scriviamo per voi Abbiamo messo in piedi un team pazzesco di Ghostwriter che scrivono sia loro e si fanno aiutare anche dall'intelligenza artificiale Per poter servire più persone, ma sono libri di qualità Voi entrando adesso in Marrakesh avete tutta la formazione per fare e imparare voi questo business Ed essere autonomi nel creare libri voi da soli e quindi poterne creare tantissimi e scalare questo business e pubblicare libri nuovi E avete già 10 titoli per iniziare, recuperate l'investimento in poco tempo Di praticamente peccate 10 libri, c'è l'offerta da 10 libri, l'offerta da 5 libri Oppure per chi ha poco budget ho pensato anche di creare un'offerta solo con i corsi Dove studiate, diventate autonome e create voi i vostri libri Ovviamente ci mettete più tempo per arrivare a guadagnare ed essere profittevoli Se avete già una base, un catalogo di 10 libri fatti da dei professionisti È veramente un'offerta incredibile Andate su kdp.michelemariello.com Gli ultimi due posti per questo mese ragazzi è un'offerta che vi siete divorati Vi è veramente piaciuta Adesso vi lascio ad un tutorial dell'ennesimo regalo Dopodiché veramente andranno via questi due posti E ci metteremo a lavorare, non so quando riapriremo Perché dobbiamo scrivere abbastanza libri Quindi entra dentro kdp.michelemariello.com Ultimi due posti Dopodiché chiuderemo Mi raccomando guardati questo tutorial Guardati anche l'altro, te lo metto qui che ho reso pubblico su come scrivere Però non è quello che ti serve Sono praticamente tutorial che ti fanno vedere praticamente come fare Ma fare copia in colla da CiaGPT al diciamo libro Senza lavorarci sopra come insegna Ettore Passafiume Vi può far rischiare di bannare l'account Quindi vi servono anche gli altri libri Io vi faccio questo regalo Se volete provare, smanettare, non avete budget Per chi non ha soldi, ok Però state attenti Quello che vi serve è una strategia Che vi permette di scrivere libri con intelligenza artificiale Ma che sembrano scritti da esseri umani Ettore ha fatto delle lezioni pazzesche i suoi corsi Anche sulla ricerca delle keywords Cioè sono delle informazioni pazzesche Quindi entrate, entrate E avete anche i libri già un catalogo per voi KDP.michelemarenino.com Adesso vi lascio al tutorial Ci vediamo da l'altro, vi aspetto Ciao Abbiamo il nostro file del libro Ci serve il Kindle Create Dovete Kindle Create Scaricare Download Questo software Eccolo qua Direttamente da Amazon Credo che il primo link sia quello giusto Eh sì Download for PC È un software che ci aiuta a impaginare bene il libro Per pubblicarlo sotto forma di Kindle Ok Quindi io l'ho installato Io ce l'ho già installato Credo Eccolo qua Lo faccio partire Da qualche parte Credo aver salvato Eccolo qua Investire in ETF Il libro è qui Adesso apro il Il tool Ok Non si apre Ah no Si sta aprendo Clicco su crea nuovo Poi faccio scegli Faccio scegli punto doc Vado su desktop Investire in ETF Lui elabora E in automatico In automatico Mi impagina il Kindle Molto molto semplice da utilizzare Mi fa i capitoli E io non ho nessun problema Dopo che abbiamo fatto questa cosa Creiamo la copertina E poi pubblichiamo Cioè io mi sento male Mi sento Mi sento Mi sento male E' una rivoluzione ragazzi Con l'intelligenza artificiale Io quando facevo scrivere questi libri A dei Ghost Writer Li pagavo 200 euro E adesso è tutto gratis C'è il GPT 3.5 Che abbiamo utilizzato E' gratis Quindi importazione completata Faccio continua Va bene Faccio per iniziare Allora qui ho trovato tutti i capitoli Facciamo accetta Ed ecco qua Michele Pagnalunga Indice Introduzione Capitolo 1 Vedete che lo impagina tutto Capitolo 2 Capitolo 3 4 5 Va benissimo 6 7 8 9 10 Ecco qua Le controllate Quello che fate Ecco tipo conclusioni Gli diamo degli spazi Ok E poi l'appendice C'è Bibliografia c'è Perfetto Dopodichè Dopo che avete controllato Che tutto sia ok Praticamente lo fa lui in automatico Giusto Controllate che tutto sia ok Che cosa facciamo? Andiamo a Andiamo a Introduzione Indice A esportare Esporta come K Sì Consigliato per Kindle e stampa Fai esporta Facciamo desktop E lo chiamiamo E lo chiamiamo KDP Ok Faccio esporta Chiudi Chiudo Magari più tardi ti mando i feedback Ed eccolo qua Chiudi Magari più tardi Abbiamo qui dentro il nostro file KDP Ha creato Quindi mettiamo tutto nella cartella Investire in ETF Per Guadagnare 10.000 euro l'anno Abbiamo il KDP Adesso Creiamo La copertina A questo punto ci serve Canva E qui Oppure possiamo utilizzare anche dei tool di intelligenza artificiale Come vi farà vedere Ettore Passafiume nelle prossime lezioni Quindi Io adesso però uso Canva Non voglio usare intelligenza artificiale Per Per la copertina Allora cerchiamo un template Scrivo book Ok E abbiamo un po' di template Allora Prendiamone uno a caso Per esempio questo Boh Usa questo template No Io ho Canva gratuito Ne prendiamo uno gratis Oh Customizza questo template Giusto per avere il progetto No Ma non è un libro Scusatemi tanto eh Ah no Un libro Cover book Devo cercare Scusatemi Cover Book template Book template Book covers Eccolo qua Ci serve qualcosa che Comun Eccolo qua Questo però si paga Mi sa No costo mezza Mi piace Questo però è a pagamento Vero Questo cerchiamo Eccolo qua Questo è bello Allora qua scriviamo Michele Michele Paglia Lunga Magari riduciamo Possiamo anche sbondarlo Che dite Lo sbondiamo Vediamo se lo sboldo Michele Paglia Come si chiama questo libro Oddio come si chiama il libro Qui puoi chiudere Ho chiuso Ho chiuso Investire in ETF Per guadagnare 10.000 euro l'anno Magari qua scriviamo 10.000 euro Con gli etf C'è anche Mettere con gli etf Qua abbassiamo Con gli etf Magari 10.000 lo ingrandiamo Magari con gli etf Lo facciamo bianco Per spezzare Boom Questo lo facciamo Questo 10.000 Lo farei un giallo più acceso Tac Anche questo Così 10.000 euro con gli etf Michele Paglia Lunga Qua magari scriviamo Qua cancelliamo Ah ma questo è Però è bello Cavolo Quanto costa per rimuoverlo Costa un euro Ah no È un Non posso pagarlo È un'immagine premium Vabbè con calma Vi faccio così anche vedere Qui Rinomina C'ho copia Vi faccio anche vedere come trovare le immagini Qui sotto metto il titolo veramente Investi in etf Qua lo cancelliamo Vado qua in element Scrivo Fin Fin Finals Finals Vediamo nelle grafiche cosa mi dà Qualcosa di gratuito Certo Quella era bella Tipo questo Eccolo qua Vorrei un esempio Però non è neanche male 10.000 euro Qua magari ingrandiamo Qua togliamo la parte finale Anzi qua proprio ingrandiamo di brutto Investi in etf per guadagnare Se facciamo come Ecco È stupendo ragazzi Questa copertina È vero o no Mi piace Magari questo lo spostiamo un po' Cerchiamo di centrare il tutto Come investire in etf Se lo bordo Bello Come investire in etf A guadagnare 10.000 euro Alla Stupendo Stupendo Allora Facciamo salva Faccio download Ah perfetto Faccio pn Anzi faccio jpeg Perché Amazon vuole jpeg Faccio download Faccio download E ho la mia Nella cartella Nella cartella Nella cartella del libro Che ho creato Faccio Incolla Rinomina Cover A questo punto Siamo pronti Per pubblicare il libro Andiamo qui Andiamo su Crea Il libro Ebook kindle Partiamo da lì Poi facciamo il cartaceo Italiano Titolo del libro Mostre altre opzioni Rinomina Io ci aggiungerei un come Come investire in etf Per guadagnare 10.000 euro all'anno Quindi Vabbè Lì non c'è Vabbè Dovremmo modificare anche Però Nella prima pagina Però va bene C'è scritto investire 10 Vabbè Allora Michele Mi viene sempre Maraglino No Michele Paglialunga Ok Titolo del libro Sottotitolo Ok Autore Non altre collaborazioni Adesso andiamo su CiaGPT Nella Che ho Abbandonato Proprio Proprio non voglio Andiamo qui Idee per libri di Amazon Prendiamo il titolo del libro Che lo modifichiamo Scrivi E gli facciamo fare Scrivi la descrizione In copy Del libro Come investire Scrivi la descrizione Scrivi la descrizione per Amazon In copy del libro Come investire Metti una chiara Metti una chiara Call to action Per l'acquisto E cerca Di essere Il più Persuasivo Possibile In via E abbiamo la descrizione Descrizione per Amazon Se desideri Un futuro finanziario sicuro E il potenziale Prendi il controllo Le finanze Il tuo futuro Sta aspettando Clicca sul pulsante Aggiungi il cadastro Perfetto Copiamo Zero sforzi Zero spattimenti Incolla Magari Qui Cancelliamo tutto, facciamo partire da se desideri, cos'è un etf, lo boldiamo, il percorso verso il successo finanziario, mamma mia la chiave, cosa aspetti, e via. Possiedo i diritti, sì, abbiamo fatto la descrizione, scusami tanto, ma cosa è successo? Ok. Ok, immagini a titoli sessualmente espliciti, no, a minima non lo mettiamo, mettiamo in italiano amazon.it, scegli le categorie, deve essere economia, affari e finanza, mettiamo una economia, poi clicchiamo aggiungi un'altra categoria, economia, affari e finanza, informatica web e politica, non c'è investimenti. Tutto un diritto, diritto internazionale, no, se metto economia, impresa, strategia, gestione, no, non mi interessa. Cerchiamo società, tecnologia e medicina, agricoltura, ambientale, storia, chimica, fisica, generale, no, società e scienze sociali, società. Antropologia, no, no, adolescente e ragazzi, libri per bambini, linguistica, dov'è che arte, cinema e fotografia, no, famiglia, salute e benessere, self-help. Ok, salva categoria, poi diciamo scrivi le parole, scrivi le keywords per amazon di questo libro, keywords per amazon di questo libro. Vediamo se lui si ricollega che è un libro di finanza, eccoci qua. Ed ecco, prendiamo le migliori di quelle che lui ci mette, tipo investimento in etf, mi piace, copiamo. Possiamo chiudere tutto così, ok, anche questo, perfetto. Mettiamo qua, poi guadagnare con etf, mi piace, lo mettiamo qua, poi stradino, portafoglio etf, pianificazione, risparmio e investimenti, mi piace. Mi scegliete le migliori etf per principianti, mi piace. Crescita, gestione finanza personale, sì. Allora, investimenti a lungo termine. E l'ultimo successo finanziario, l'ho messo, un obiettivo, pianificazione, mettiamo pianificazione fiscale, sì. Ok, sono pronto a pubblicare. Salva, salva e continua. Abbiamo la descrizione, abbiamo le keywords, adesso abbiamo la copertina, e abbiamo il manoscritto. Carica testo, perfetto, andiamo nella nostra cartella, nella cartella KE e prendiamo KDP. Come investire etf per guadagnare 10.000 euro l'anno. Ragazzi, ci è venuto un libro che è una meraviglia. Carica una copertina, prendiamo su copertina, carica una copertina, fai sfoglia, fai desktop, fai qui, fai cover. Il gioco è fatto. Mi sto sentendo male, sono 45 minuti, abbiamo fatto. Ok. Hai usato strumenti di idea? Certo. Testi sì. Alcune, io metterei alcune con numerose modifiche, anche se... Chat GPT, poi vi spiega tutto Ettore, bisogna dire la verità, questa è solo una, diciamo, statistica, non vi succede niente, eh. Alcune sezioni con numerose modifiche. Immagini, nessuna, traduzioni, nessuna. Visualizza l'anteprima, avvia l'anteprima, vediamo l'anteprima, vediamo se è tutto ok, poi passiamo al prezzo. Stiamo bassi, ragazzi, questo è un libro che ha 80 pagine, e dobbiamo stare bassi, il Kindle, 3 euro, non di più. Valutate sempre il prezzo in base al numero delle pagine. Più pagine scrivete, banalmente, più potete alzare i prezzi. Michele Padone, 10.000 euro con gli etf, come investire in etf per guadagnare? Stupendo. Non è stupendo la copertina. Tac. Il nostro Kindle è benissimamente impaginato. Mi sa che bibliografia è finita lì. Vabbè, introduzione. Avrei dovuto, state attenti, avrei dovuto tirare su bibliografia, però adesso lo lascio così, visto che ho fatto tutto in diretta. Comunque tutti i capitoli sono a posto. Tac. Ma andiamo tutto avanti, va bene, va bene. Credo che vada bene. Torniamo indietro. Selezione degli etf giusti. Salva e continua. Salva e continua. Allora, KDP Select, io non li registro perché praticamente ti pagano, diciamo, chi si abbona a Kindle e a tutti i libri gratis, però gli autori vengono pagati in base a quante pagine leggono. Io non lo metto così posso avere il 70% delle royalties. Quindi tutti i diritti a livello mondiale sono i miei. Amazon.it, quindi seleziono il 70% e gli metto, che ne so, 3 euro. Do 300 euro impossibile. Gli metto 3 euro. La mia royalty è di 1,71 euro. Facciamo 3,90 euro, così da arrivare almeno a 2 euro. Ok, 2 euro e 23. 3,90, mi serve un po' il prezzo. Pubblica il tuo ebook Kindle. Fine. È fatto, ragazzi. 47 minuti. Abbiamo il libro. Andiamo in... Inizia subito la creazione del tuo libro cartaceo. E qui già praticamente tutto è tutto compilato. Come investire, 10.000 euro all'anno. Tutto, tutto, vediamo cosa manca. Possiedo i diritti. Ah, mettiamo Amazon da qualche parte. Qui mi chiederà Amazon.com. Amazon.com, dobbiamo mettere Amazon.it. Diciamo che le categorie sono diverse. Seleziona Economia e Finanza, Impresa, Strategia e Gestione, no. Famiglia, Salute e Benessere. Dove lo trovo? Giuself Help, Finanza Personale, bomba. Io lo metterei anche in... In Self Help, pensionamento anche. Finanza Personale e pensionamento. Salva e continua. Adesso dobbiamo acquistare... Cioè, no, acquistare. Dobbiamo assegnargli un codice ISBN. Dovrebbe essere... Che è gratuito. Assegna il codice ISBN. Ok, qui dobbiamo scegliere il formato. Noi non abbiamo fatto un 6x9, ma un 5x8. Questo 12,27x20x32. Quindi, lo modifichiamo, nessuna svanigliatura opaco. Carica manoscritto cartaceo. Qui possiamo caricare direttamente il file che abbiamo creato. Non dobbiamo caricare quello di Kindle. Era praticamente... Solo per Kindle. Per la versione digitale. Abbiamo il manoscritto. Per la copertina. Carica copertina di cui disponi. Io non sono un grafico, non so fare il PDF. Vado su Avvia creazione copertina. E la faccio utilizzando l'editor di Amazon. Vi faccio vedere quanto è semplice. Ho capito. Non visualizzare più questa schermata. Facciamo continua. Scegli da computer. Carichiamo la cover. E lui la metterà qui. Io qua fa delle prove, ma scelgo questo prodotto. Ok. Si ignora. Qui posso cancellare. Qui metto un immagine. dal mio computer. L'ho scaricata. È Michele Paglialunga. L'ho scaricata da Pixabay. Quei siti che hanno immagini gratuite. Ho messo un nuovo al computer. Magari qui ingrandisco. Così che si vede meglio. Eccolo qua. Michele Paglialunga. E qui prendo magari una parte della descrizione. Se vi sia un futuro per generare i tuoi investimenti come investimenti come investimenti Ecco. Ogni pagina di questo libro è ricca di conoscenze pratiche e consigli esperti che ti aiuteranno a costruire il tuo patrimonio e raggiungere l'obiettivo di guadagnare l'anno dei tuoi investimenti. È il momento di dare un passo davanti al tuo futuro e non perdere questa opportunità. Copio questa parte della descrizione. La metto qui. E il gioco è fatto. Qua controllo. Vedete c'è un punto esclamativo. Allora vado. Rimpicciolisco un po' l'immagine. Ancora un po' finché non se ne va via quel triangolo. Ecco fatto. Certo un po' bruttina. No. Gli altri non possiamo così. Ecco così. Come investire in ETF Michele Paglialunga. Anteprima copertina. Vediamo un po'. Molto semplice. Come potete vedere. Abbiamo quasi finito. 51 minuti. Io neanche a farlo apposta senza tagli ragazzi questo corso. Abbiamo scritto il libro. Impaginato il libro. Ok. Salva invia. Scritto il libro. Impaginato il libro. E pubblicato sia come Kindle che come cartaceo. Questo libro di 80 pagine lo possiamo vendere. Lo venderei a 11 euro e 90. Adesso dobbiamo guardare generato sì. seleziona alcune sezioni con numerose modifiche. Chat GPT. Ok. E poi clicchiamo su avvia lo strumento di anteprima. Vediamo se tutto è impaginato bene. Forse la bibliografia lì dovevo sistemarlo. Vabbè. Adesso vediamo. Ormai vabbè. È una lezione didattica. Comunque sto effettivamente pubblicando questo libro. riguardatevi questa lezione perché veramente anche nella scelta dell'argomento non è veramente banale quello che ho fatto. E dalla scelta del libro dall'argomento voi dipende dal successo del libro. Quindi le macro nicchie che poi vi dirà anche Ettore dove anche con Ettore potete anche vedere come trovare i libri da scrivere attraverso l'analisi dei best seller. È una roba incredibile questo corso. Qui abbiamo visto proprio praticamente come fare le cose. Ok? Però intanto un libro anche così. Io facendo così l'altro comunque li vendo cioè comunque Amazon vende. Guardate che bello come impaginato bene qui c'è il codice S-Band 81 pagine ma è meraviglioso. Andiamo avanti. Oh Michele Paglia Lunga Pam qui un po' di bianco qui l'indice Bibliografia qui introduzione o sta un po' giù? No dobbiamo un attimo non so cosa sia successo chiudi dobbiamo un attimo ricaricare vediamo carica manoscritto dobbiamo un attimo modificare possono succedere queste cose dobbiamo un attimo modificare qui indice conclusione bibliografia vedete c'è questa introduzione qui che ci manda tutto dobbiamo controllare non so perché capitolo 1 facciamo capitolo 2 capitolo 3 e poi è tutto giusto ok no dovete sempre controllare per il diciamo cartaceo si opera direttamente dal file che avete creato invece per il forse quando lo passi col kindle creator ti sballa un po' ok il 7 c'è questo avrei dovuto farlo prima 8 c'è 9 c'è 10 c'è eh uh conclusioni c'è e l'appendice c'è bibliografia c'è ora l'unica cosa che mi mette un po' di pensiero sono e questo indice con questa bibliografia qui ma facciamo salva chiudiamo ok speriamo che stia registrando ma devo aver fatto la cosa crea cioè tutto lo schermo carica manoscritto cartaceo lo desktop lo ricarichiamo e poi avviamo l'anteprima giusto per comunque state attenti perché deve essere impaginato bene avvia lo strumento di anteprima così poi possiamo mandare in stampa 55 minuti con l'imprevisto veramente in un'ora abbiamo fatto tutto è davvero è davvero pazzesco adesso lo mandiamo lo mandiamo lo pubblichiamo con amazon il kindle già nelle prossime ore sarà online è il primo che pubblica poi pubblicherà anche supererà tutti i controlli come è sempre successo e poi sarà online a quel punto il mio consiglio è andate da un parente cioè questo è il metodo più semplice andate da un parente da un amico dalla vostra moglie ai vostri figli fate comprare il kindle e lasciate una recensione di 5 stelle con la descrizione fatta molto un copy diciamo e persuasiva da HGPT la recensione 5 stelle ne basta una amazon farà il resto ok ragazzi vedete come è impaginato bene l'introduzione è capitolo 1 etf capitolo 2 capitolo 3 capitolo 4 capitolo 5 è meraviglioso capitolo 6 capitolo 7 capitolo 8 capitolo 9 capitolo 10 conclusioni appendice e bibliografia 81 pagine a prova e ci siamo veramente in un'ora precisa abbiamo cercato e fatto una ricerca cercato il libro il libro giusto l'abbiamo scritto l'abbiamo impaginato abbiamo fatto la copertina l'abbiamo pubblicato ci costa 2 euro e 05 il costo di stampa amazon il bello è che ovviamente stamperà i libri solo quando vengono acquistati quindi tutto a costo 0 qui devo fare devo mettere mancava qualcosa immagini nessuna e qui nessuna mancava questo perché andiamo salva e continua mi ero dimenticato di rispondere alle domande sull'intelligenza artificiale sulla copertina e quant'altro amazon.it io qui voglio mettere 11 euro e 90 per un libro da da 81 pagine come vedete 5 euro e 0,9 le royalties maggiori si hanno sui libri cartacei quindi se scrivete un libro di 200 300 pagine per esempio se io qui mettessi 23 euro 22 euro e 90 che è un buon prezzo avrei 11 euro è tantissimo di royalties per ogni acquisto su in Italia però abbiamo fatto un libro da 81 pagine farei anche facciamo 10 e 90 così invogliamo 4 ore e 49 ci va bene pubblica il tuo libro cartaceo ed ecco fatto ragazzi in 58 minuti abbiamo scritto l'impaginato copertinato congratulazioni fine eccolo qua in revisione in revisione abbiamo pubblicato il nostro libro con questo metodo con CiaGPT possiamo creare libri in un'ora infatti questo corso si chiama da 0 a royalties in un'ora adesso che avete sapete proprio praticamente come affrontare questo business proprio tecnicamente come si fa a pubblicare un libro con CiaGPT a scriverlo pubblicarlo tutto quello che vi serve adesso guardate i corsi di Ettore e sarete delle macchine da guerra nella creazione dei libri nella pubblicazione e nel generare delle royalties tutte le strategie le trovate dopo per scrivere libri migliori per scrivere libri più lunghi ovviamente nei corsi di Ettore Passafiume buon proseguimento e buon lucro a tutti mi raccomando il mio consiglio è di non fare così nel senso ve l'ho fatto vedere brutalmente come scrivere un libro ma lavorateci sul testo con i consigli e i tool che vi farà vedere Ettore lavorate sul testo per migliorarlo per ampliarlo per renderlo più interessante più fatto bene anche se non l'avete scritto voi ci sono dei tool che vi fanno la parafrasi che ve lo rendono più umano e ci sono modi per diciamo anche fare ricerche sull'argomento quindi essere più accurati e quei libri fatti così ovviamente generano vendite un libretto fatto così semplicemente con solo da CiaGPT lascia un po' il tempo che trova vi ho fatto vedere semplicemente quanto è semplice pubblicare e scrivere però approfondite questo è soltanto la parte pratica ora sapete come banalmente scrivere un libro con CiaGPT e pubblicarlo ora da qui a fare 10.000 euro al mese pubblicando libretti ce ne passa dovete guardare i corsi di Ettore studiarli vedere tutte le sue tecniche fare tutte le ricerche sulle keywords su investire è una bomba lui fa Kindle Publishing dal 2019 e allora sì che lucrerete di brutto quindi guardatevi le altre lezioni e buon lucro a tutti e poi un'altra l'altra 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 Grazie a tutti.